Il sindaco Stirati va avanti spedito con il proprio programma di governo. La città sia tranquilla che non ci saranno scossoni che frenino o interrompano la strada intrapresa dal 2014 ad oggi. È il messaggio in sintesi che il sindaco di Gubbia ha voluto lanciare dalla conferenza stampa indetta a 48 ore dal sisma che ha colto il gruppo di maggioranza liberi democratici con l'uscita di tre componenti importanti, l'ex vicesindaco Rita Cecchetti, il consigliere più votato un anno fa Riccardo Biancarelli e l'ex assessore amministratore di Gubbio Cultura e Multiservizi Alessandro Brunetti. Tre esponenti di rilievo di quello che era il gruppo di maggioranza relativa a Palazzo Pretorio, oggi dimezzato, che hanno motivato l'uscita dai LED per confluire nel gruppo misto con la mancanza di dialogo democratico all'interno del gruppo e la necessità di un cambio di passo della Giunta. Una conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo alcune giornate politicamente anche un po' inattese perché lei stesso si è detto sorpreso di questo passaggio che non cambia la geografia totale ma la ridistribuzione dei gruppi sì. Lei come giudica quello che è accaduto? Ripeto, sorpreso, ovviamente il primo messaggio che voglio dare alla città è che comunque il sindaco va avanti, abbiamo un programma da realizzare, una città da rilanciare, abbiamo attivato tantissime operazioni, tantissimi cantieri e tanti altri ne verranno, abbiamo a disposizione importanti risorse sull'edilizia scolastica, sull'area interna e così via e quindi è chiaro che noi abbiamo una grande responsabilità, io innanzitutto nei confronti dei cittadini, delle persone in difficoltà, di coloro che in questo momento stanno faticando, magari anche prima faticavano ma la situazione di emergenza sanitaria con tutte le implicazioni socio-economiche che ha determinato rende il quadro ancora più preoccupante, quindi noi dobbiamo dare una risposta di grande serietà, di grande responsabilità, di grande tenuta. Poi per carità ci stanno i problemi politici, i problemi di rapporto, le questioni amministrative sulle quali si può discutere infinitamente, trovare magari anche soluzioni migliorative, però è chiaro che noi dobbiamo andare avanti, non vivacchiare ma garantire un governo convinto, determinato, spedito per la città perché questo ci è stato chiesto quando l'abbiamo fatta uscire dal commissariamento e le abbiamo ridato dignità, forza e spinta in avanti. Le chiedo se è preoccupato perché questa novità arriva non da neofiti come l'ex vice sindaco né da consiglieri diciamo di secondo piano come il consigliere che ha preso più voti di tutti nell'ultima tornata, quindi è un campanello, come dire, una spia che si accende e che sembra quasi, immagino la figura retorica la conosca, la nemesi, visto che liberi democratici o scelgo dubbio sono nati perché nel PD allora non si dialogava abbastanza, sembra quasi un film già visto. Ma diciamo che purtroppo sempre di più le relazioni politiche dei gruppi politici ma degli stessi partiti, non solo dei movimenti o delle liste civiche presentano una sempre maggiore liquidità vorrei dire. Certo i liberi democratici devono interrogarsi su questo cortocircuito, lo faranno, per quello che mi riguarda io avrei sicuramente auspicato che questi confronti si facessero nelle sedi dovute all'interno delle assemblee, degli esecutivi, peraltro i liberi democratici rinnoveranno a breve i loro organi, quindi credo che ci fosse anche l'occasione per affrontare queste situazioni in maniera diciamo così più convenzionale, più legata alle procedure ordinarie. Evidentemente si è creato un cortocircuito anche nei rapporti personali, anche nelle difficoltà di relazione, purtroppo questo a volte accade, non è mai un fatto positivo, quello però che è positivo è che nessuno mette in discussione la maggioranza, il sindaco, il programma, quindi sono destituite di ogni fondamento le chiavi di lettura secondo le quali la spaccatura riguarderebbe per esempio il tema del CSS nei cementifici, noi abbiamo approvato una mozione che peraltro è stata sostenuta anche da alcune minoranze, il programma nostro è chiaro, non c'è stata mai una spaccatura sui temi fondamentali, eventualmente si può discutere sui tempi, sulle modalità, sul fatto che magari certe cose si possano fare prima e meglio, questo fa parte fisiologicamente anche dei confronti tra le varie componenti, però non c'è diciamo un argomento serio, importante sul quale ci sia una spaccatura, io questo non l'ho mai registrato, quindi questo credo che sia un elemento particolarmente incoraggiante per guardare al futuro e soprattutto per rassicurare i cittadini. Un'ultima battuta, se questo riposizionamento potrebbe precludere a qualche riposizionamento anche nell'esecutivo, è nelle ipotesi o al momento? Questa è una valutazione che faremo alla luce anche dell'esame dello stato dell'arte, del lavoro che è stato portato avanti, io ho voluto coniugare anche nella mia composizione di governo esperienza e novità, diciamo anche anagraficamente, ci sono persone meno giovani e persone molto giovani, credo che il compito di un leader e quindi di un sindaco sia anche quello di costruire una classe dirigente perché non possiamo lasciare poi nel futuro il deserto, ovviamente nel fare questo possono esserci anche delle complicazioni, nel senso che è sempre un lavoro di limatura abbastanza complicato, però io credo che fino a questo momento ci sia stato un buon lavoro di carattere amministrativo, un buon esito, importanti azioni in tutti i campi, dal sociale all'ambiente, all'urbanistica, ai lavori pubblici, all'innovazione tecnologica, ma anche al bilancio e al patrimonio, devo dire che allo sport, alla cultura, al turismo, cioè se guardo tutti i settori e tutte le varie deleghe, io non trovo delle gravi situazioni di difficoltà dal punto di vista realizzativo o della piena attuazione del programma, poi certo è passato un anno, adesso faremo un tagliando per capire anche quali difficoltà e se ci sono anche delle problematiche da risolvere o degli ostacoli da rimuovere e in base a questo faremo anche delle considerazioni, insomma valuteremo anche se necessario la stessa articolazione della Giunta, però credo che non ci sia nessun automatismo da questo punto di vista e non sarebbe credo serio affrontare le cose, se ci sono questioni politiche, di contenuto e amministrative intanto quelle vanno affrontate, poi tutte le altre valutazioni saranno di conseguenza. Grazie